Come faceva quel cinquantenne straniero appena arrivato in paese a conoscere così tanta gente da giustificare il costante andirvieni? È partita da una considerevole densità di movimenti sospetti l'attività dei carabinieri del nucleo operativo di Cortina che ha portato al sequestro di oltre un chilo di droga tra cocaina, hashish e marijuana. Dopo avere controllato i movimenti dell'uomo hanno effettuato la perquisizione domiciliare con l'aiuto del cane Garwin del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia. Il fiuto del pastore tedesco ha consentito di trovare rapidamente lo stupefacente. Nell'appartamento dell'uomo c'erano materiali per il confezionamento, pezzi di plastica, bilancini di precisione e soprattutto oltre 300 grammi di cocaina già suddivisa in oltre 500 dosi, più di 800 grammi di hashish in vari panetti, quasi 100 grammi di marijuana. La vendita degli stupefacenti avrebbe potuto fruttare allo spacciatore ricavi per oltre 35 mila euro e altri 17 mila in contanti sono stati trovati nella casa dell'uomo. Per i cinquantenne si sono aperte le porte del carcere di Belluno su disposizione della procura della Repubblica con l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.